Andrea, 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 mi potresti andare a prendere un sacco di pellet per favore? Certo! Grazie! Eccolo! Andrea, ma che cos'è quello, Andrea? Ti avevo chiesto un sacco di pellet, Andrea! Ah, avevo capito, palle! Io sono un critico e questo non fa ridere! L'altro giorno stavo camminando sul marciapiede, ma a un certo punto non riuscivo più a passare! E perché? Perché mentre il marciapiede c'era una scala! E come hai fatto a passare? E per fortuna era una scala mobile! Non fa ridere! Sono caduto su una buccia di mela! Non fa ridere! Mi ha detto di suonare la campanella, ma non so quale suonare! Eh, sarà questo! Non fa ridere! 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 Stop! Cattolo! E questo fa ridere! Sì, in effetti fa ridere! Ahahah! Ahah! 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 Grazie a tutti.